Antonio Conte fa la lista dei bocciati, sono ben sette quelli che secondo il tecnico azzurro non rientrano nel progetto Napoli, oltre all'Inström vicino all'Everton e a Ostigard che continua a rifiutare il Rennes. E Gaetano che piace al Cagliari, nell'elenco dei possibili partenti ci sono anche Simeone, uno tra Nathan e Juan Jesus e a sorpresa anche Ngonge. Nella lista è probabile che possa rientrare anche Cagliuste. Conte sta lavorando intensamente, conoscendo la squadra, ed è inevitabile fare bilanci e valutazioni ad un mese dall'inizio del campionato. Eloquenti le sue dichiarazioni alla TGR Campania, in cui esprime il suo giudizio sul gruppo. Quello di cui mi sto accorgendo qui in ritiro è che abbiamo tanto da fare. C'è grande entusiasmo da parte dei tifosi, ma noi dobbiamo essere molto concentrati. Ci sarà da lavorare tanto e cercare di fare meglio dell'anno scorso. Non si parte da una situazione alta, ma media, ha aggiunto il tecnico, secondo cui anche quando si vince bisogna sempre fare delle valutazioni e capire cosa si può migliorare. Una situazione che forse il tecnico non si aspettava di trovare, ma gli stimoli a fare bene ci sono tutti, con i nuovi acquisti e con le inevitabili cessioni che ci saranno nelle prossime ore. Come, nelle prossime ore, dovrebbe sbloccarsi la situazione Lukaku con la cessione di Osimène al Paris Saint-Germain.